Siamo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente Sannino deve essere ricevuto dal Sottosegretario. Allora Presidente, quali sono gli obiettivi che l'ANIDA si pone? No niente, noi siamo di nuovo a Roma stamattina per incontrare il Sottosegretario di Stato Dottor Zoccano che è il Ministero della Famiglia e Disabilità. Spero che questo tavolo, come ritengo, sia un tavolo che riusciamo, oltre ad evidenziare, a risolvere anche alcune tematiche. Vediamo, adesso saliamo, ci saranno incontro, i temi per quanto ci riguarda sono sempre un po' gli stessi, l'inserimento lavorativo per i disabili, se no è eventualmente il problema del contrassegno per le delibere che va sostituito, i falsi invadi, insomma tra poco cominceremo un po' a parlare col Sottosegretario e poi al rientro vi sapremo essere più chiaro di come è andato il tavolo. Sì, allora stiamo per entrare, tra pochi attimi ci riceverà il Sottosegretario nella speranza, come dico, di concludere, almeno determinare alcune cose. Presidente, è un incontro che io definisco storico, ossia c'è una rivoluzione nel mondo della disabilità. Guardi, come sicuramente ha sentito, chiaramente c'è prima di tutto una grandissima volontà, sembra ci siano delle grosse competenze, se in mente dipende direttamente dal Presidente del Consiglio, ci sarà una rivoluzione, io ho poche parole stavolta da dire, perché voi dovranno essere i fatti a parlare, ma finora veramente c'è stato un incontro. Andremo a verificare, come siamo già rimasti nei prossimi incontri che faremo, per entrare poi specificamente in tutte le tematiche. Adesso si è fatto un discorso un po' di carattere più generale, se così si può dire, e invece poi, insomma, dai primi di gennaio in poi, cominceremo ad avere delle riunioni specifiche per andare a individuare e risolvere i problemi. Chiaramente ci si chiede una prima scrematura a livello nazionale di che cosa è la disabilità, i numeri quali sono, bisogna andare a cogliere le persone, non più i numeri, che sennò avere delle statistiche così superficiali, non vanno a risolvere i problemi. Io mi auguro che da gennaio in poi queste cose sicuramente avverranno, ci saranno una serie di incontri, una serie di tavoli e di là, finalmente, spero che si possa veramente fare la rivoluzione anche nei disabili.